Ci troviamo qua all'interno delle Terme Apollinari di Vicarello, nel palazzo, nella struttura che era stata costruita dall'imperatore Domiziano, che aveva pure dei problemi alle ossa e quindi qua aveva la possibilità di curarsi per quanto poteva e ci troviamo effettivamente in una situazione di assoluto, mi spiace dirlo, degrado. Vedete in qualche modo che queste murature che hanno resistito per duemila anni sono comunque attaccate dalla vegetazione infestante, gli scavi risalgono a 40 anni fa e da allora poco o nulla è stato fatto se non per quello che riguarda gli studi benemeriti soprattutto all'Università di Siena. È una situazione che incontreremo spesso e abbiamo già incontrato, cioè quello del fatto che memoria del territorio rappresentata da un incredibile patrimonio archeologico giace effettivamente molte volte nell'incuria. Si dirà come sempre per mancanza di fondi, ma soprattutto più che per mancanza di fondi, per mancanza di una visione. Non c'è una visione della tutela collettiva del patrimonio in cui si possono incontrare le forze migliori del territorio. Da una parte certamente e fondamentalmente chi fa ricerca, cioè gli archeologi, i professionisti dei beni culturali, eccetera, ma anche le persone che hanno passione per questo. Ovviamente possono nascere piccoli conflitti, ma andrebbero risolti all'interno di un contesto, cioè questo patrimonio appartiene alla comunità e non soltanto alla comunità locale, alla comunità in senso mondiale proprio, se permettete questa retorica un po' paesana, nel senso che il patrimonio culturale appartiene al mondo. Come viene effettivamente spontaneo a dire, una volta che un bosco viene bruciato, è un dramma, ma il bosco può ricrescere. Ma una volta che un bene culturale viene distrutto, il bene culturale è morto per le future generazioni.